Quanto tempo è per sempre, un momento da incastonare nell'album della memoria, un'emozione che non passa, una storia che continua. Questo è quello che facciamo da quasi due secoli. Giocare con i numeri, cristallizzare un momento, applicare quel miracolo chiamato misurazione a ogni aspetto della vita, dell'industria e del tempo libero. Misurare è dare vita all'astratto, è dare numero all'indefinito. Misurare è capire la strada, il mezzo, è dare un senso al nostro fare. Dal 1856 questo è quello che facciamo, aiutarvi con strumenti di qualità e precisione a misurare qualsiasi sia la vostra attività e la vostra produzione. Ma è il tempo la più intima risorsa che abbiamo. Qualcosa di soltanto nostro, che trascorre con noi, che accompagna il nostro crescere e scandisce le nostre giornate e i nostri anni, la nostra vita. Misurare il tempo per dargli una forma, renderlo eterno, anche se continuamente mutevole. Dare forma al tempo e dare forma ai sogni. Noi, quei sogni, li vogliamo indossare, per renderli eterni e portarli sempre con noi. Per gelo, chei sogni, li vogliamo indossare, per dargli un problema. Grazie a tutti.